Un saluto da Ponte News. Spazio e la creatività con l'evento di sabato 26 e domenica 27 marzo, Tink Festival di Illustrazione e Fumetto. Al Museo Orsi questo evento ha colto molti, molti curiosi. Per l'occasione abbiamo intervistato Alessandra De Stefani, presidente dell'Associazione Culturale ACM Eventi. Servizio. Ciao a tutti, io sono Alessandra Di ACM Eventi e benvenuti a Tink Festival, un festival di illustrazione e fumetto. Come potete vedere il Museo Orsi di Tortona ci ospita con questa iniziativa dedicata all'arte, alla cultura, all'illustrazione, ai fumetti e tutto questo mondo fantastico fatto di colori e di storie. Cosa potete trovare? Le nostre mostre, i laboratori che sono tutti gratuiti per tutta l'età, quindi anche da bimbi più piccoli possono venire a imparare a disegnare i loro personaggi preferiti dei fumetti. Poi ci sono assolutamente i nostri artisti che provengono da ogni parte d'Italia e sono artisti veramente dai più blasonati, quindi in grandi case editrici, Bonelli, Disney o comunque le più importanti firme e etichette italiane. E poi una fiera di mosso a mercato, quindi potete acquistare direttamente qui i vostri fumetti preferiti, quindi tutti i vostri supereroi oppure le vecchie glorie del panorama fumettistico italiano. Ecco, qui ci sono fumetti di tutti i tipi. E che altro dire? Tra l'iniziativa Pro Curiose oggi ospitiamo anche una sessione di street art, e quindi all'esterno del Museo Orsi c'è un gruppo di writer che stanno ridipingendo tutti i muri che trovano liberi dalla città di Tortona, quindi da domani Tortona avrà murales nuovi, quindi sono assolutamente delle opere da continuare a seguire. I nostri artisti sono contattabili usando la nostra pagina o Facebook o il sito dove ritrovate le loro, diciamo, biografie e tutto quello che è legato alle loro opere. E niente, noi vi aspettiamo quindi ancora per la giornata di oggi, fino al 17, al Museo Orsi di Tortona per Think Festival. E l'appuntamento che possiamo dare al prossimo anno, sempre in primavera, se vi siete persi questa occasione, altrimenti l'Ale Comics di settembre in Alessandria, Cittadella 3 e 4 settembre. Per ora è tutto, vi ringraziamo per essere stati con noi. A presto! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!